mi raccomando evitate i fiori è la cosa più importante qua in questa fase metterà dei fiori di lotto è un po' che cosa non è evitata è un po' che cosa è evitata è un po' che cosa è evitata ok bestia board non curatemi non curatemi mi raccomando paolo perché prendi degli stack che ti fa il danno a te quando mi curo mi arrangio da solo ma noi possiamo curarti però si si auto si ti ti puro dall'esterno mi arrangio da solo ok è morta ti entri la tu così poi ti fai la tua bestia io me lo toccevi la bestia che non l'avevo vista questo danno in mano bravissimo che è successo abbiamo asti quante volte possiamo evocare teoria due volte ogni cioè due volte tutto lì che è la bestia non curatemi prendi la prendi la prendi la rossa io mi finisco la bestia ah sicuro? il problema? si la prendi la rossa non è che c'è non è che c'è non è che c'è è veloce a portarla vicino alla cosa nera anche le vestiti eccolo là vieni anche ci deve stare proprio dentro anche voi più ci state vicino meglio è prendete meno danno vabbè vogliamo comunque tendere il range ma? si che range per che cosa? scusami perdonami io c'è il radar di prossimità che si apre i dbm sono le pozzaiola che diminiscono il danno se le vicino ai copi di ghiaccio se avete la bestiaola ovviamente no con quell'anno che ti lancia la media tra le stupi perfetto guarda che bello che è qua vicino che puoi? che puoi? che puoi? ho capito dove c'è il punto dietro dietro avviso adesso stiamo domenendo se non fanno un po' qua tirate un bel pari danno se non vede tirare il cuore cg tanto meglio perfetto ok ok poi dico dico consigliano in prossima fase quello del mana se siete se siete basta e io l'ho mi sembra poi quando esce la nera si continua a picchiare la rossa e poi non muore appena esce la nera andiamo in eroism perfetto guarda che bello che è qua ok è uscita eroism prenditi la nera guarda io tengo la rossa non attiviamo basso no uscidete la rossa preoccupate ok title force sarebbe da evitare in qualche modo uscidete la rossa a questa iscone che tu li fa niente a cometa a cometa adesso ve la porra ve lo vengo a prendere o la casa 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 è proprio sulle fiamme ottimo sì l'ho vista vabbè è morto era quello che volevo perfetti bravissimi questa è come la fase 1 questa si bene basta si è come la fase 1 niente di che si sta attenti ai cavolo di noti e basta non è che siano di fiori fiori perfetto questo sarebbe il penitimo boss ma riusciremo a riparare mai a questo boss io ho riparato sono morta thunderforged mohi thunderforged mohi e bracciali le regi